Il nome del candidato alla carica di Presidente della Regione Campania è in corsa alle prossime elezioni regionali per il centrodestra. Arriva dopo una lunga trattativa l'ufficializzazione del nome di Stefano Caldoro con il plauso convinto anche del leader della Lega Matteo Salvini che in un'intervista riconosce la capacità e qualità di Stefano Caldoro come uomo e come amministratore ma ribadisce anche la posizione sugli impresentabili e sulla necessità di rinnovamento della classe politica in Campania. Pare infatti che sia stato questo il punto su cui la Lega avrebbe posto i veti per ciò che riguarda eventuali candidature. Intanto Stefano Caldoro subito dopo l'ufficializzazione della sua candidatura che lo vedrà per la terza volta a contendersi la carica di governatore della Campania contro De Luca in una sfida che è il sapore della bella si è già messo a lavoro per una campagna elettorale che sarà particolarmente dura e combattuta ma che il candidato del centrodestra è deciso ad affrontare con passione e serietà. Dalle pagine del mattino lancia il primo messaggio agli elettori della Campania per puntare sulla ripartenza della Regione guardando ad un nuovo corso a cui si lavorerà con serietà e passione. A distanza di 5 anni si ripresenta quindi la stessa sfida elettorale del 2015 tra Caldoro per il centrodestra, De Luca per il centrosinistra e Ciarambino per il Movimento 5 Stelle. Per gli ultimi due nei mesi scorsi si era tentata una convergenza su un nome nuovo che potesse raccogliere il favore di entrambe le coalizioni. Un tentativo andato a vuoto e pentastellati, contrario a sostenere il presidente uscente, hanno così deciso per un proprio candidato che attraverso la votazione sulla piattaforma del Rousseau ha visto i simpatizzanti del Movimento puntare nuovamente su Valeria Ciarambino.